Ora vai vai vai, destra 3, in sinistra 3, e destra 5, in sinistra 2, freno a mano, rocce all'esterno, 40, destra 3, scivoloso, in sinistra 3, in destra 3, a peri all'esterno, e sinistra 3, lunga, in destra 5, poi sinistra 3, coppa, e destra 5, attenzione, vai al centro, apri, 80, attenzione, sinistra all'incrocio, sinistra 4, in destra 4, poi sinistra 2, e tornante destra, freno a mano, 40, sinistra 4, poi destra 3, lunga, attenzione, sinistra all'incrocio, sinistra 3, e destra 2, attenzione, salto, poi sinistra 2, destra 3, sinistra 3, poi destra 5, sinistra 3, stai a destra, sotto il ponte, poi destra 4, tornante sinistra, freno a mano, destra 5, rocce all'esterno, diventa sinistra 3, in tornante destra, freno a mano, sinistra 3, barriera all'esterno, destra 3, poi tornante sinistra, freno a mano, poi tornante destra, freno a mano, non tagliare, 40, coppa, e tornante sinistra, freno a mano, barriera all'esterno, destra 2, in sinistra 4, attenzione, tornante sinistra, freno a mano, poi tornante destra, freno a mano, rocce all'esterno, ci chiamo!